Nella serata di lunedì 24 marzo, i carabinieri della stazione di Resuttano, transitando in contrada marina, hanno notato un giovane a bordo strada armato di chiave a croce di ferro che colpiva ripetutamente sul volto un uomo. Intervenuti immediatamente per evitare il peggio, dopo aver soccorso l'uomo accompagnato poi da un passante al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, i militari dell'arma hanno sequestrato l'arma impropria e segnalato l'aggressore, un 28enne, per lesioni aggravate. La vittima, oltre a numerosi traumi e contusioni, ha riportato la frattura del setto nasale.